La radio CB Midland ALAN 42DS porta dei miglioramenti significativi rispetto al modello anteriore. Funzioni come sketch digitale, filtri per il rumore come automatic noise limiter e noise blanker, canali di emergenza e connettore a due pin che permette la connessione di auricolari come la Midland MA31L. Precisiamo che il Digital Skelge è la regolazione automatica dello Skelge, che evita l'utilizzo della regolazione manuale. Si attiva automaticamente in funzione del segnale in ingresso ricevuto. I filtri Noise Blanker e Automatic Noise Limiter invece migliorano l'audio e lo rendono più pulito, eliminando i disturbi causati da fonti esterne o dall'automezzo, come per esempio il rumore all'accensione. La ALAN 42DS è idonea sia all'uso all'interno della macchina sia all'esterno, grazie al pacco batteria per 8 batterie tipo AA. Nella confezione trovi la radio ALAN 42DS, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stilo, pacco batterie vuoto per batterie alcaline da 6 stili tipo AA, pacco batterie vuoto da 8 stili tipo AA per batterie ricaricabili compresa di ricarica, adattatore per uso in auto compresa per antena esterna SO239, custodia antigrafio, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso. La ALAN 42DS è una Game Changer nella categoria delle radio CV portatili, grazie alle nuove funzioni, alle dimensioni e al modo di utilizzo.